Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico e insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce. Mi trovo qui con Valentina Oldani, una ragazza meravigliosa che ha partecipato al corso di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze. Ciao Valentina Bella, come stai? Buonasera a tutti, benissimo, assolutamente benissimo e poi quando vedo la mia maestra di luce sto ancora meglio. Sei la prima persona che mi chiama maestra di luce, è troppo bello, che emozione, veramente, grazie Valentina. Ascolta Valentina, come sono andate queste nuove settimane? Raccontaci un po'. Allora, sono state nuove settimane meravigliose, mi vengono davvero tantissime cose da raccontare, quindi cercherò di riassumere i punti fondamentali, i punti focali, quello che proprio ci tengo, possano conoscere tutti e lo voglio proprio fare col cuore e con l'anima, tu sai che è così. Innanzitutto a livello personale, ecco io avevo proprio bisogno di ritrovare la mia luce, mi sentivo spenta dopo questi anni di covid, di lockdown, di distanze, io mi ero chiusa molto perché ha voluto obbligarmi a non essere più quella che ero fondamentalmente e quindi avevo proprio la necessità di rinascere, di risprendere un'altra volta e per cui ho fatto una richiesta, ho detto fatemi capire da chi andare, fatemi capire cosa chiedere e immediatamente Rossella io sono arrivata a te, per cui ci siamo contattate in questo modo, per cui partiamo da quello che è stato per me personalmente, faccio un esempio semplice, quando ho iniziato prima del corso a fare le preghiere giornaliere, le meditazioni, inizialmente era difficile perché era da tanto che non praticavo più, per cui chiaramente ad occhi chiusi io immaginavo i passaggi, con l'andare del tempo io non ho più avuto bisogno di immaginare i passaggi perché ho iniziato proprio a percepire quello che accadeva all'interno di me, quindi come si muoveva l'energia, dove si muoveva questa energia e soprattutto in questo momento mi basta veramente dire dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto che io sento proprio subito il movimento, quindi mi centro, mi radico alla madre terra davvero in modo spettacolare e già per me questo è assolutamente un miracolo perché non mi era mai capitato nonostante vari percorsi qualcosa davvero di così forte, di così potente, di così amorevole. Mi sono sempre sentita più protetta, più amata, più andavamo avanti con il corso. Il gruppo tra l'altro è davvero stato un gruppo dove c'è stato un incontro animico tra diversi di noi ed è stato bellissimo perché non era solo essere a proprio agio ma davvero essere in sintonia, essere in armonia, quella stessa armonia che abbiamo imparato tutti a seguire, ad ascoltare con le nostre mani e con le varie pratiche comunque che Rossella tu ci hai insegnato. Voglio raccontare un pochino quello che ha iniziato ad accadermi quando in presenza iniziavo a praticare, a fare le mie piccole pratiche, quindi se all'inizio non percepivo magari molto sui palmi, poi c'è stato un momento in cui ho iniziato proprio a capire non solo come e dove muovermi ma proprio a sentire la diversità delle energie, quindi a capire dove fermarmi di più. A distanza ho iniziato proprio a sentire sui palmi delle mani che l'energia si muoveva in modi diversi in base alla persona a cui stavo pensando, alla persona che stavo trattando, per cui davvero ogni giorno, come Alice nel Paese delle Meraviglie, io rimanevo stupita, sai come i bambini che scoprono giorno dopo giorno cos'è il mondo, ecco io ho ricominciato a scoprire in modo davvero più profondo e più intenso cos'è la luce, cos'è l'amore, cos'è scegliere di essere luce e di essere amore, per cui è proprio quello che continuo a ripetermi, è quello che voglio, per cui davvero grazie. Assolutamente, grazie a te mia cara. Ascolta, hai avuto dei risultati, dei riscontri con queste frequenze su di te o sulle altre persone? Assolutamente sì, parto magari da quello che è un po' il lato professionale, io sono insegnante, insegno spagnolo alle scuole medie e naturalmente di questi tempi capitano tante situazioni molto difficoltose, molto faticose, per cui sulle più dure ho iniziato a praticare a distanza piuttosto che utilizzando la foto dei miei alunni e si sono davvero sbloccate delle situazioni che sembravano senza speranza, per cui i primi risultati grossi sono avvenuti lì. Oltre a questo, tramite lo sguardo, tramite la trasmissione delle frequenze di luce con gli occhi, io ho proprio iniziato sempre prima di entrare a scuola, prima di entrare in classe a chiedere per quella classe, per quei colleghi, per la direzione, per quei salesiani, che fosse tutto armonioso perché naturalmente dovendo gestire tante dinamiche toste, tutti noi ho pensato abbiamo bisogno e davvero è cambiato tutto, ogni incontro, ogni confronto, le interrogazioni, comunque non ho mai visto i miei alunni così a proprio agio, così sereni e i risultati si sono visti anche poi a proprio a livello pratico. Oltre a questo, naturalmente, lavoro anche un po' sulla mia famiglia, sui miei amici e in modo particolare, per quanto riguarda mia figlia Giulietta, che viveva una situazione di conflitto, non sapeva bene cosa scegliere, ha avuto prove, anche magari dure, si sono sbloccate situazioni che magari potevano sembrare dure all'inizio, ma che l'hanno portata a essere sicura della propria scelta e adesso non ha più dubbi ed è tornata ad essere serena, per cui davvero è proprio meraviglioso. Bene, sono veramente felice, insomma non hai avuto nemmeno bisogno che io ti facessi le domande, sei stata esaustiva, ascolta, a chi consiglieresti questo corso? Dimmi un po'. Allora, sicuramente a tutti coloro che in questo momento si sentono un po' persi, hanno bisogno di ritrovare se stessi, di ritrovare la propria natura e che ci tengono ad aiutare, veramente, non solamente se stessi, ma anche gli altri e anche proprio interamente la madre terra. Di sicuro è fondamentale, sembra banale dirlo, ma è una cosa che io penso davvero, che chiaramente non possiamo aiutare gli altri se prima non decidiamo di fare noi quei passi, per cui direi che davvero lo consiglio a chi ha bisogno di ritrovarsi, a chi in qualche modo si è già ritrovata, anche se sappiamo che il cammino poi è sempre in crescita con l'amore e con la luce e che si occupa degli altri. Per cui, ecco, a tutti coloro che scelgono di essere luce e amore, che ci vogliono provare. Meraviglioso, guarda Valentina, grazie, grazie, grazie. Adesso inizierà il corso di connessioni angeliche, quindi due settimane, quindi adesso andremo a vedere come andrà e magari ci lascerei una testimonianza anche su quello. Assolutamente, volentieri, perché davvero è stato meraviglioso, un'emozione, proprio questa sensazione proprio di essere avvolti, di essere protetti e proprio che tu fossi la persona giusta. Ecco perché, mi sono iscritta poi anche all'altro corso, inizialmente pensavo solo alle connessioni, però poi sentivo proprio questa chiamata, quindi consiglio anche davvero a chi ha sentito qualcosa nel cuoricino, nella propria anima, di ascoltare, perché davvero veniamo chiamati. E veniamo chiamati perché c'è tanto bisogno, c'è tanto bisogno di amore e di riceverne, per cui spero che tutti si ascoltino. Bello, bene, grazie Valentina. Io ti ringrazio perché la tua testimonianza può essere di aiuto per tante anime che magari hanno la chiamata e non riescono a seguirla. Chissà che il tuo messaggio possa arrivare ai loro cuori. Io ti ringrazio, anima meravigliosa, ci vediamo presto. Grazie. 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 Che bello. Grazie cara. Ciao ciao. Ciao ciao.